53 dipendenti della Teramo Lavoro SRL costituitisi in un comitato hanno lanciato un appello a stampa e istituzioni perché la società in house della provincia venga salvaguardata. Il dubbio del lavoratore è che il clamore mediatico abbia lasciato in secondo piano la questione che più preme, il loro futuro occupazionale. Gli stessi dipendenti della Teramo Lavoro hanno ribadito che al momento attuale il consolidamento dei posti di lavoro appare come l'unico strumento per salvaguardare i servizi che ogni giorno essi rendono a beneficio della comunità terramana. Un appello accorato che sembra essere stato accolto dalla provincia di Teramo dato che proprio ieri la Giunta ha deliberato l'adozione di un atto di indirizzo rivolto ai dirigenti dei vari settori dell'ente per la prosecuzione dei contratti con la Teramo Lavoro per un periodo di sei mesi fino al 30 giugno 2012 in maniera da dare seguito a quanto concordato coi sindacati sulla chiusura della fase di avvio. L'atto di indirizzo agli intendimenti dell'amministrazione verranno illustrati domani nel corso di un tavolo convocato con le organizzazioni sindacali. Sarà l'occasione, spiega il presidente Catarra, per un confronto su molte delle questioni che riguardano la Teramo Lavoro e anche per fare chiarezza su tante inesattezze ascoltate in questi giorni, soprattutto sulle cifre e sui dati della società. Grazie. Grazie. Grazie.